A una settimana esatta dalla proclamazione, Emanuele Feduzzi, ospita il programma di Fanu TV, primo cittadino, ha ufficializzato la composizione del nuovo esecutivo e guidato ieri la prima riunione di giunta. Le deleghe sono state annunciate solo dopo aver incontrato nei giorni scorsi tutti i componenti della lista Fermignano Futura. Sono quattro gli assessori, di cui due uomini e due donne. Alessandro Betonica, di nuovo vice sindaco, si occuperà di lavori pubblici, ambiente e sanità. Fiorella Paolini invece è stata confermata nel suo ruolo di assessore allo sport, al personale e servizi al cittadino. Gli altri poi sono New Entry. A Monica Scaramucci vanno le deleghe ai servizi sociali, eventi e pari opportunità, mentre a Obaldo e Ragnoni sono stati affidati la cultura, il turismo, il furlo e le partecipate. Mentre invece per quanto riguarda il Presidente del Consiglio è una novità, praticamente che Giada Giochini era la più piccola della precedente legislatura ed era Presidente della Commissione Bilancio. E quest'anno invece l'abbiamo promossa, visto che ha avuto un notevole successo nell'ultima tornata elettorale ed è diventata Presidente del Consiglio. A Giada inoltre sono state affidate le deleghe al bilancio e ai tributi, mentre il sindaco terrà per sé quelle all'urbanistica, alle attività produttive, alla pulizia locale e all'edilizia scolastica. Un'amministrazione caratterizzata anche dalla giovanità? Assolutamente sì, il più grande della maggioranza è il capogruppo che ha 50 anni, invece praticamente per quanto riguarda la Giunta addirittura siamo notevolmente con un'età bassa perché io ho 39 anni, sono sindaco, sono sì il più giovane e gli altri ci aggiriamo, siamo tutti i miei coetanei. Quindi di conseguenza abbiamo fatto sia una Giunta che una maggioranza molto giovane, all'interno del Consiglio abbiamo una ragazza di 21 anni, quindi di conseguenza abbiamo dato un imprinting innovativo, rinnovato. Abbiamo avuto l'uscita della persona più esperta che era Arturo Romani, il quale ringrazio per il contributo che ha dato sia adesso che nella precedente legislatura e appunto c'è stato un forte rinnovamento, un abbassamento di età. Ora quali saranno le priorità? Innanzitutto la nuova scuola primaria, nei giorni scorsi già sono stati recintati il cantiere, iniziano adesso la prossima settimana le vere e proprie escavazioni delle fondamenta e sarà l'obiettivo principale, perché comunque sia una scuola nuova, tecnologica, per 500 bambini. Poi ci sarà la riqualificazione di via Carducci con l'abbattimento del plesso della scuola elementare attualmente in piedi e la riqualificazione dell'ex campo sportivo. Saranno le tre priorità, insieme a una parte del sociale che è appunto l'obiettivo che ci siamo dati, che è quello di arrivare entro i cinque anni alla creazione della nuova casa di riposo. Adesso ci sono passato per cinque anni, ormai sei anni fa, avevo terminato il mio impegno come capogruppo della minoranza, tenderò la mano perché dobbiamo essere collaborativi, dobbiamo lavorare tutti i tredici consiglieri, compreso il sindaco, ovviamente per migliorare Ferminiano. Il mio slogan, il mio gruppo si chiama Ferminiano Futura e dovremo disegnare una Ferminiano Futura anche in collaborazione con la minoranza, perché il ruolo della minoranza è un ruolo serio che deve essere fatto con correttezza, deve essere fatto poi con capacità e soprattutto con collaborazione, perché non bisogna sempre dividersi e diventare opposizione, che è un sinonimo importante ma una differenza sostanziale, ma bisogna collaborare per la città. Grazie.